Miei cari follower, oggi abbiamo inventato un nuovo format che si chiama il kakakazzi Abbiamo preso questo foglietto che ho trovato sulla macchina delle studentesse cercano appartamenti in zona da affittare E abbiamo deciso di chiamarli per vedere un po' che succede Li vogliamo informare di questo nuovo format e vediamo se scrocchiamo anche il follower, il segui Vediamo un po', ovviamente mettiamo il viva voce Con la speranza che non ci mandano a quel paese Pronto? Pronto? Buongiorno, sei in diretta su un nuovo social che si chiama il kakakazzi Sono un famoso youtuber, Roberto, ciao Ho trovato il foglietto delle studentesse che cercano appartamenti in zona, Villa Gordiani Sei tu? Eh, veramente sì, però le prese per il culo... No, 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 non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, non è la prese per il culo Noi siamo qui anche per aiutarti, se vuoi fare un appello qui in diretta, questo video verrà pubblicato su tutti i social Se effettivamente cerchi l'appartamento in zona e quanto sei disposto a spendere? Ma non ho capito a che cosa serve questa stronzata È un nuovo format, è un nuovo format Ma questa è una presa in giro, perché io ho lasciato il biglietto perché mi serve un appartamento Sto studiando e non posso neanche perdere tempo Ma veramente io cerco di aiutarti in questo modo, non è né provarci, né per provarci, né niente Ho visto il foglietto... Lei ha preso il mio... no, lei ha preso il mio numero No, puoi darmi del tuo, tranquilla Eh, tu hai preso questo numero Sì E hai fatto le chiamate perché non c'è niente da fare Vabbè, quindi insomma non sei d'accordo a questo nuovo format Per niente proprio Va bene, allora scusa il disturbo, ti lascio e ti saluto, eh Arrivederci Ciao, ciao La simpatia di questa ragazza non è al suo forte Quindi noi strappiamo in diretta il biglietto E la casa se la trovasse la sola Io continuerò a fare il cacacazzi Ciao